Migliore e peggiore scenario di ogni squadra NBA durante la prossima stagione, parliamo dei Philadelphia 76ers. Lo scenario migliore è composto da tre elementi, che Maxi, Paul George e Embiid, le tre stelle, vado d'accordo fuori e dentro al campo, probabilmente è più facile, che stiano sani durante la stagione, già più complicato venendo i precedenti, e che abbiano successo il playoff. L'obiettivo è quello di fare quantomeno le finals e non vincere il titolo. Le stelle ci sono, la profondità di panchina c'è. Anche perché ricordiamo che la free agency dei 76ers è una delle migliori, se non la migliore, di quest'estate del 2024. Quello che manca da fare è però battere i Boston Celtics a est, cosa per adesso ancora mai fatta dai Sixers. Lo scenario negativo è quello di un'altra sequela di infortuni che rovini la stagione. Embiid perde altra metà di partita, Paul George come sempre affetto di infortuni, o ancora peggio, ai playoff i giocatori che devono performare non lo fanno e spariscono, come un po' hanno fatto in tutta la loro carriera. Secondo voi che fine faranno questi Sixers? Fatelo sempre nei commenti e seguitemi per le prossime squadre.